Voglio dire che noi abbiamo raccolto la sfida che le associazioni dei giovani imprenditori agricoli a livello europeo ci hanno posto in queste settimane. Abbiamo sostanzialmente portato quelle proposte in sede istituzionale, in consiglio e immediatamente nella relazione col commissario Hogan. In particolare quest'idea di sviluppare un rapporto forte tra giovani imprenditori agricoli europei e Banca Europea degli Investimenti si sta consolidando anche con dei tavoli tecnici che l'ADG Agri ha già insediato e attraverso i quali noi contiamo da qui alle prossime settimane di avere alcuni elementi tecnici concreti. Per mio conto l'obiettivo fondamentale è mettere a disposizione risorse della Banca Europea degli Investimenti per linee dedicate al credito in favore dei giovani imprenditori agricoli. Ci sono diversi strumenti, si possono usare diverse leve, la cosa importantissima è che con dicembre noi si riesca ad aprire questa strada. Così come ritengo molto importante riuscire a fissare l'obiettivo dell'Erasmus per i giovani imprenditori agricoli.